Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e buon Feminist Friday a tutte e tutti voi. Oggi parliamo di un argomento che è probabilmente quello che mi avete richiesto di più su Instagram e mi avete chiesto sotto i video, ovvero il gender pay gap perché evidentemente c'è bisogno di fare chiarezza, bisogna spiegare che cos'è, bisogna spiegare che cosa consiste fondamentalmente, quindi eccomi qua apposta ad accontentarvi. Lo scopo di questo video è fondamentalmente spiegare che cos'è, come influisce sulla nostra vita quotidiana, sulla nostra economia, ma anche fornire un po' un quadro delle soluzioni che sono state messe in atto dalle diverse nazioni. E prima che arrivino già quelli a farmi le pulci, il gender pay gap esiste. Se per caso voi non credete nell'esistenza del gender pay gap, due cose fondamentali. Il primo, seguite il mio video perché poi vi spiegherò tutti i meccanismi, tutto quello che c'è da sapere riguardo al gender pay gap, perché so che molti dicono ma è un'azienda da me, io ho lo stesso contratto della mia collega, certo, ma poi ne parliamo più tardi. Seconda cosa da tenere a mente, secondo l'Unione Europea è una delle cause più importanti sia del rallentamento dell'economia europea e non solo, ma soprattutto per lo sviluppo economico. Quindi prima che voi diciate no ma io non ci credo perché la mia collega cia e prende la stessa roba che prendo io, aspettate e ascoltatemi per favore, abbiate questa pazienza. L'Unione Europea ha stilato poco tempo fa un documento che riguarda la situazione lavorativa, che è decisamente interconnesso anche con le aspettative e i ruoli di genere. Affermando la seguente cosa, l'aumento della presenza delle donne nella forza lavoro e l'eliminazione del divario retributivo tra donne e uomini avranno un impatto positivo sulla crescita dell'Unione Europea. Quindi innanzitutto è una grande conferma che questo divario retributivo esiste, ma ce ne sono state diverse lungo il corso della storia. Ma partiamo proprio dalla definizione che cos'è il gender pay gap. Traducendolo pari pari è divario retributivo di genere, ovvero le differenze sostanziali tra quanto viene pagata una donna, quanto viene pagato un uomo. Ma non è così semplice la questione. Il gender pay gap prende in considerazione diversi aspetti del mondo del lavoro, le differenze nelle ore lavorate, nelle mansioni, le occupazioni scelte, l'istruzione, il livello di istruzione e l'esperienza lavorativa. I fattori sono tanti. Si può affermare a livello globale che le donne sono pagate meno degli uomini, a livello globale. La differenza tra i salari, ovvero tra il compenso, l'ordo, medio di un uomo è più alto rispetto a quello di una donna. E questo divario, secondo diversi studi, è composto soprattutto da due componenti. La prima è una parte spiegabile, la seconda è una parte non spiegabile. Alcuni sono culturali, alcuni sono inevitabili, altri invece sono chiaramente una discriminazione di genere. Ma ora, visto che anche io non sono un maestro di economia, visto che mi occupo di ben altro nella vita, vi spiego in parole un po' più semplici che cosa significa per spiegabile e non spiegabile. Diciamo che in generale la differenza tra la retribuzione media uomo o donna è solo una piccolissima componente del grande quadro che compone il gender pay gap. Cioè diciamo che la retribuzione media oraria è solo un minuscolo aspetto. Se noi ad esempio valutiamo un altro aspetto della questione, ovvero il monte oreano lavorato in Italia, vediamo che ad esempio bisogna fare verse e ulteriori indagini riguardo proprio il gender pay gap, ovvero la differenza sostanziale della retribuzione per generi. Infatti in Italia se noi consideriamo le ore lavorate durante l'anno è chiaro che le donne lavorano meno degli uomini. Ma non nel senso che le donne impiegate non hanno voglia di fare nulla e lavorano meno. Semplicemente un dato che è netto. L'impiego femminile in Italia è nettamente inferiore rispetto a quello maschile. Già siamo in una situazione abbastanza tragica direi dal punto di vista lavorativo. Ma se noi differenziamo per genere le donne sono molto meno occupate che gli uomini. Proprio come vi dicevo prima tra parte spiegabile e non spiegabile partiamo da quella spiegabile che mi sembrerà più semplice. Come vi dicevo prima la differenza salariale viene considerata sempre in una parte spiegabile e in una parte non spiegabile. Partiamo da quella spiegabile. La parte spiegabile viene attribuita alle caratteristiche produttive di ogni persona impiegata. Ho anche il titolo di studio ad esempio ci sono diversi fattori e ad esempio questo è un dato che stupisce perché la parte invece spiegabile perché viene considerato circa un meno 6% in quanto le donne impiegate in attività produttive sono più produttive degli uomini in una media di ore lavorate, in una media di lavoro svolto, in una media di produzione finale. Infatti i dati che circolano confermano che le donne impiegate sono produttivamente migliori degli uomini ma la componente discriminatoria del gender pay gap che considera sia l'attribuzione di ruoli che dall'altro lato l'impiego femminile invece portano la discriminazione ad un divario molto negativo per le donne. Infatti nonostante le donne risultino più produttive sono le meno impiegate e quelle che riescono a salire meno di livello durante la loro carriera. Calcola che in Italia ogni uomo guadagni 1,80 euro all'ora in più di ogni donna. Chiaramente parliamo del settore privato non apro neanche la parentesi freelancer perché poi vado sul personale e dopo lì non siamo più in un video spiegazione quindi a conti fatti alla fine dell'anno ogni donna dovrebbe lavorare circa un mese e mezzo in più per riuscire a guadagnare quanto un uomo. E le ragioni della retribuzione più bassa sono numerose e sono diverse. Innanzitutto una retribuzione più bassa comprende anche le ore disponibili al lavoro e in generale la retribuzione più bassa comprende sia delle ragioni personali dell'individuo sia fattori innati ed esterni che non dipendono ovviamente dalla persona. Un esempio lampante è quello della scelta personale di lavorare part time, quello di ridurre le ore di lavoro da un full time a un part time anche quando è disponibile un'occupazione a tempo pieno. Un esempio invece di scelta involontaria è quello di svolgere una mansione inferiore rispetto alla propria capacità per una impossibilità di accedere a un'istruzione superiore quindi non aver avuto la possibilità di studiare. Un esempio di fattore invece esterno è la discriminazione badate bene che questo discorso significa che in un mondo del lavoro di oggi dove è tutto estremamente complesso, tutto estremamente difficile accedere a una mansione soddisfacente e corrispondente al proprio titolo di studi e alle proprie capacità è di per sé già difficile ma è più difficile se si è una donna. Il divario retributivo di genere è problematico anche quando dipende totalmente da una scelta volontaria ed è un problema politico perché riduce la capacità economica, la produzione economica e questo significa che le donne di per sé se lavorano meno e hanno meno possibilità di accesso al lavoro tanto quanto gli uomini dipenderanno di più dallo stato, dipenderanno più quindi dai servizi di welfare e questo non succederà solo nella vecchiaia, potrebbe incappare anche nel corso della loro vita attuale e secondo l'unione europea eliminare il divario retributivo di genere significherebbe rendere le donne molto più indipendenti e quindi non dipendenti dai servizi dallo stato che chiaramente costano a tutta la collettività e diminuirebbero anche così le differenze di pensione quindi in un'età pensionabile dipenderanno meno dai sussidi ulteriori dello stato sempre secondo l'unione europea per uno studio fatto proprio tal proposito il problema del divario retributivo di genere non è qualcosa che colpisce solo e unicamente le donne anzi si riflette sulla collettività tutta perché oltre a quello che vi ho appena spiegato insomma i costi economici i costi vivi per lo stato di questo divario di retribuzione di genere hanno individuato un collegamento tra disoccupazione o mancata retribuzione corretta femminile e povertà infantile spesso infatti si tratta di donne che non hanno potuto accedere a un'istruzione per periore donne che non hanno la possibilità di una mansione adeguata alle loro capacità eccetera eccetera e proprio a proposito di capacità e il grandissimo impatto sull'economia è anche dovuto al sottoutilizzo delle capacità di queste donne delle donne e questa problematica non colpisce ripeto solo le donne ma tutta la collettività in quanto tutti facciamo parte di un apparato statale e che possono essere chiaramente ridotte se vengono messe in atto delle misure proprio per eliminare la discriminazione di genere come vi dicevo il gender pay gap non significa semplicemente quanto guadagno io quanto guadagno al mio collega se guadagniamo uguale questo gender pay gap non esiste in italia in effetti noi siamo ritenuti quasi virtuosi in europa non siamo in paesi come l'austria la germania che hanno dei dati abbastanza tragici infatti viene stimato che in italia si raggiungerà la parità salariale tra i generi nel 2058 che comunque mancano 30 anni quindi ragazzi cioè è lunga la strada in germania ad esempio il divario di retribuzione di genere così tragico come dato che si stima che la parità di retribuzione verrà raggiunta solo nel 2297 il pay gap medio infatti in italia del 14,8 per cento che per quanto sia comunque un dato negativo non è tra i più tragici ciò però non significa che non vada comunque eliminato e faccio anche una promessa doverosa che è quello che vi dicevo prima non è perché voi e la vostra collega guadagnato uguale in un settore impiegatizio magari all'ingresso del lavoro che quindi il gender pay gap non esiste infatti il gender pay gap in italia al momento dell'ingresso nel mercato del lavoro è mitigato dai contratti di apprendistato o dai contratti a termine soprattutto ovviamente per quello che riguarda il settore impiegatizio e quindi il divario salariale tra uomini e donne è molto contenuto chiaramente senza andare a inquadrare i vari spacchettamenti di inquadramento eccetera eccetera però diciamo se uno viene assunto per un ruolo di impiegato o una ragazza viene assunta con un ruolo di impiegata con un contratto di apprendistato percepiranno effettivamente la stessa cifra esistono poi generalmente dei contratti nazionali dei contratti collettivi di lavoro che regolano la retribuzione indipendentemente dal genere e che fissano alcune soglie minime di retribuzione oraria e poi la gestione anche degli scatti di anzianità e come andrà avanti il contratto ecco ma infatti non è qui che il gender pay gap colpisce il nostro mondo del lavoro in italia i pesi da tenere in considerazione sono molteplici e diversi il primo è il tasso di occupazione per le donne trovare un lavoro è più difficile da un lato e in tantissime zone è anche più difficile la possibilità di poterlo cercare e trovare questo purtroppo è indipendente dal genere ok il terzo fattore è anche il tempo a disposizione per il lavoro da non dedicare alle altre attività dei quali parliamo dopo e poi anche il livello medio di istruzione il divario di genere nei tassi di occupazione è sicuramente la causa principale del gender pay gap e infatti la disparità di retribuzione complessiva viene stimata al 53% proprio a causa del divario tra tasso di occupazione femminile e tasso di occupazione maschile seguito poi al 32% nel divario di genere tra le ore lavorate e all'11% viene stimato il gender pay gap le donne che hanno figli in busta pagana si vedono arrivare di media il 3% in meno rispetto alle donne senza figli mentre gli uomini che hanno figli si vedono arrivare in busta paga circa il 15% in più di media rispetto a quelli senza figli so che sembrano tutti dati che cercherete in tutti i modi di controvertire ma non sono dati miei giù nell'info box trovate ovviamente tutti i documenti relativi a quello che sto dicendo quindi sono tutte cose che sono state indagate e calcolate sia dall'Unione Europea che dalla nostra splendida e meravigliosa Italia forse perché c'è di fondo anche in questo dato una sorta di preconcetto dove si pensa che le donne che hanno figli saranno meno disponibili al lavoro, meno presenti e meno attente sul lavoro visto che avranno altre cose alle quali pensare mentre invece un uomo che ha figli cercherà in tutti i modi di dare il massimo proprio per garantire alla propria famiglia la stabilità economica si calcola inoltre che una donna guadagna di media 5.000 euro in meno di un uomo ma il divario aumenta notevolmente quando si procede verso la fine della propria carriera lavorativa diciamo verso l'età pensionabile e quando si arriva alla fine del percorso lavorativo viene calcolata una differenza media di 14.000 euro tra la retribuzione annuale di un uomo e quella di una donna sommando il reddito accumulato per la pensione e per altre questioni si stima che la differenza sia abbastanza abissale di quasi 300.000 euro questo indica che c'è qualcosa che impedisce alle donne di avanzare verso una posizione più remunerativa sicuramente e di avanzare verso una retribuzione migliore un problema che troppo spesso dipende proprio invece dai pregiudizi di genere ovvero è un problema che è dovuto principalmente a una sorta di segregazione delle donne in determinati ruoli lavorativi e in determinati settori che sono ovviamente retribuiti un percentuale molto inferiore rispetto ad altri come ad esempio il settore pubblico infatti secondo l'Istat il 62% degli impiegati nel settore statale sono donne cosa che invece non avviene nel settore privato dove le donne sono meno del 38% i settori nei quali il salario invece è a favore delle donne controvertendo tutto quello che ho detto fino adesso sono solo tre il settore delle costruzioni che potrà parere strano ma è così nel quale gli uomini percepiscono il 12% in meno delle donne quello dell'estrazione di minerali da cave o da miniere che si aggira circa attorno al 4% e nel settore di trasporto e magazzinaggio anzi proprio il settore di magazzinaggio e di trasporto è quello dove forse la disparità di genere è meno accentuata e anzi ci aggiriamo attorno all'1% a favore delle donne in questi settori infatti il numero di uomini operai impiegati come operai è molto maggiore ma ha retribuito meno rispetto ai ruoli che ricoprono le donne che di solito occupano posizioni più impiegatizie in questi settori rispetto agli uomini che ovviamente si occupano di altre mansioni quindi banalmente sono settori dove se la maggioranza degli uomini sono operai vengono retribuiti meno rispetto agli impiegati che tendenzialmente sono donne e capiamo perché in questi tre settori il divario di genere tende a favore della popolazione femminile però questi ovviamente sono solo tre settori in un mondo vastissimo dell'economia se poi consideriamo anche il divario di età tra i lavoratori se la differenza di retribuzione dei giovani sotto i 30 anni è abbastanza contenuta la forbice tra i sessi si allarga nuovamente quando l'età sale infatti si calcola che di media un lavoratore sulla cinquantina guadagni circa il 25% in più di una donna impiegata nello stesso settore e ci sono alcune attività professionali soprattutto legate al mondo scientifico e alle mansioni tecniche dove il divario sfiora addirittura il 46% infatti noi è soprattutto qui che andiamo a cogliere il gender pay gap in Italia che è un po' diversa rispetto alla situazione all'estero che hanno ovviamente una contrattazione nazionale molto diversa dalla nostra e poi io che dico contrattazione nazionale è proprio facilissimo per me e comunque, comunque torno seria, era un po' più drammatizza se no qua ci prendiamo addosso è proprio qui che noi in Italia percepiamo il gender pay gap non all'ingresso del mondo del lavoro quindi per chi ovviamente è sotto la trentina ma è proprio andando avanti nel mondo del lavoro che affrontiamo i fattori più determinanti per la differenza salariale di genere infatti il primo da tenere conto sono i gruppi professionali ovvero più si va avanti più i dirigenti rimangono dirigenti uomini diciamo che più si va avanti già è più difficile per una donna ricoprire ruoli di responsabilità dove le percentuali sono veramente da far accapponare la pelle sulla differenza sia di presenza di donne negli apparati di dirigenza sia anche nel divario retributivo di genere infatti si calcola che le donne dirigenti dovrebbero lavorare anche il sabato e la domenica per riuscire a guadagnare quanto un uomo perché gli stipendi medi tra un dirigente donna e un dirigente uomo sono nettamente più alti quando si è uomo lo stipendio di un dirigente uomo è circa una volta e mezzo quello di un dirigente donna questi sono dati italiani eh quindi sono dati italiani non sto parlando di paesi nel mondo sparsi e l'avanzamento di ruolo tuttavia si scontra proprio con le possibilità di fare carriera questo fattore è quello dove permane la più grossa diseguaglianza tra gli uomini e le donne infatti c'è un fattore fondamentale da tenere in considerazione infatti l'età media dove si riesce per una lavoratrice ad immagazzinare una certa competenza quindi a poter fare un passaggio di qualifiche di inquadramento da junior a senior o verso ruoli di responsabilità coincide spesso con l'età verso la quale ci si avvicina alla maternità o in coincidenza comunque con la scelta verso la maternità molte donne si sentono tutt'oggi costrette a scegliere tra l'ambito familiare e quindi nel realizzarsi nel ruolo di madre, di moglie eccetera o la prosecuzione della propria carriera percependo il rischio di discriminazioni implicite o esplicite legate proprio al ruolo della maternità che avviene sul mondo del lavoro ovviamente dall'altro lato non esiste alcun ostacolo percepito o non percepito quando invece è un uomo che deve affrontare la paternità sul proprio luogo di lavoro e questa realtà che ovviamente non è controvertibile si traduce in un minore numero di donne dirigenti si calcola meno di un terzo del totale quindi a parità di ruoli uno sbilanciamento fortissimo dal punto di vista salariale verso gli uomini altra cosa che sicuramente incide studiare paga è vero ma soprattutto per gli uomini quindi riassumendo tutto quello che ho detto fino adesso che cos'è il gender pay gap in Italia il gender pay gap è la differenza salariale tra un uomo e una donna e quindi che cosa comprende il gender pay gap, il divario salariale di genere in Italia non comprende solo la paga media che è sicuramente un fattore ma comprende anche il livello di occupazione media di genere in questo paese va preso in considerazione perché c'è un grosso divario tra l'occupazione tra uomini e donne in questo paese a dati nettamente diversi va preso in considerazione l'avanzamento di carriera che è molto più difficile per le donne e i dati sono incontrovertibili dall'altro ci sono sempre delle aspettative di genere che gli uomini non vivono e che influenzano la vita lavorativa ovviamente poi ci sono tutte da considerare ad esempio dei fattori personali, dei fattori di aspirazione personale questo è un altro paio di mani che lì non ci potremmo fare mai nulla e come sempre visto che siamo nel Feminist Friday e io mi considero una femminista intersezionale in tutto e per tutto c'è un'ulteriore specifica da fare il gender pay gap colpisce soprattutto le donne chiaramente ma anche all'interno del mondo femminile ci sono ulteriori discriminazioni se in linea di massima tutte le donne vengono discriminate sul mondo del lavoro proprio per il divario di retribuzione di genere ci sono donne che vengono discriminate ulteriormente proprio per la loro appartenenza a una categoria che dipende soprattutto dalla discendenza perché se io sono una donna bianca e subisco il divario di retribuzione di genere questo divario aumenta nettamente quando io sono una donna ispanica quando sono una donna nera quando sono una donna disabile e avrò ancora più difficoltà ad essere riconosciuta come pari e ad ottenere un salario pari ad un uomo ma anche pari ad una donna bianca però arriviamo un po' alla parte propositiva di questo video ovvero esistono delle soluzioni? sì, sì, chiaramente esistono delle soluzioni non abbiamo la soluzione definitiva ovviamente perché tantissimi paesi adottano soluzioni diverse in base al proprio mercato e in base al proprio regolamento del mercato del lavoro e chiaramente non tutte sono applicabili ad altre realtà ad esempio noi non potremmo mai applicare il modello UK o il modello americano chiaramente però voglio soffermarmi soprattutto su un aspetto ovvero quello della mentalità perché questo secondo me il fattore culturale il fattore della mentalità è comunque l'ostacolo più grande che abbiamo e vi spiego nel dettaglio che cosa intendo l'articolo 37 della nostra meravigliosa Costituzione cita la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore ma poi va avanti e qua, lacciate le cinture pronti le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare ho i brividi ragazzi e assicurare alla madre, al bambino una speciale protezione che se noi la consideriamo insomma in un contesto più alto potrebbe sembrare ad una prima occhiata ovviamente un qualcosa di molto positivo la donna partorisce la donna è l'unica che può rimanere gravida e quindi va protetta perfetto, siamo tutti d'accordo ma parlare di un'essenziale funzione significa continuare a riconoscere al genere femminile una doppia funzione puoi essere lavoratrice e questo non te lo toglie nessuno te lo garantisce anche la Costituzione ti dice anche che sarai retribuita come un uomo ma tu devi continuare ad adempiere il tuo ruolo non scritto cioè quelli che sono i tuoi compiti in quanto donna perché purtroppo l'attribuzione del lavoro di cura che viene sempre sottovalutato ma in Italia purtroppo l'attribuzione del lavoro secondario che ogni donna secondo anche la nostra Costituzione deve avere è quello del lavoro di cura perché chi si prende cura dei figli della casa dei familiari anziani tendenzialmente le donne perché questi sono ruoli impliciti di genere e questo voler sottolineare come ci sia una grossa disparità tra i sessi in quello che ci si aspetta dai ruoli di genere è un motivo culturale che continuerà a frenare per sempre l'annullamento della disparità di genere perché la paternità viene presa pochissime in considerazione addirittura ci sono 5 giorni l'anno dati alla paternità sul posto del lavoro e questo per me è un problema e lo dico perché secondo me sono tutti i ruoli quello di cura quello di crescita dei figli quello di anche cura degli anziani perché sempre di più noi andiamo verso una società che invecchia e che abbiamo sempre più bisogno di prenderci cura degli anziani e spesso sono tutti i ruoli che spettano alle donne perché difficilmente l'uomo avrà la paternità difficilmente si potrà prendere del tempo libero per accudire i propri familiari in più c'è sempre una sorta di relegazione a dei ruoli tradizionali infatti se una donna più che volentieri e spesso farà la maestra ma non farà la professoressa universitaria in Italia si calcola che i dati sono meno di un terzo quelli che vedono impiegate le donne in università rispetto agli uomini soprattutto in determinati settori e mentre la donna può essere maestra e quasi esclusivamente il settore della formazione primaria fino alle scuole superiori è relegato alle donne e questi sono tutti fattori culturali perché spesso c'è proprio un impedimento anche proprio nell'accesso a determinati ruoli un po' per pregiudizio di genere perché quello c'è sicuramente un po' anche per impossibilità visto che spesso sono carriere che difficilmente fanno conciliare la vita familiare con quella lavorativa non vorrei che in tutto questo discorso generale questo discorso fosse un po' deviato da alcune percezioni ed è chiaro da un punto di vista un po' cinico che una donna gravida, una donna che avrà dei figli dal punto di vista del datore di lavoro è un costo in più è un costo che deve essere tamponato e sostituito per le sue mansioni da qualcun altro poi avrà degli orari di lavoro ridotti insomma ci deve essere un po' di organizzazione dietro ma a queste cose non dovrebbe neanche pensare il datore di lavoro e il lavoratore dovrebbe essere lo Stato a dare una serie di ammortizzatori sociali che innanzitutto riescono a dare serenità a chi sceglie di fare un figlio ovviamente e dall'altro lato garantire sia al lavoratore che al datore di lavoro di poter mantenere il proprio ruolo e anche incentivare magari l'avanzamento di carriera una volta tornato al lavoro come suddividere i compiti tra madre e padre avere gli stessi diritti che si hanno con la maternità anche con la paternità ma volevo anche affrontare un po' alcune soluzioni che hanno adottato i diversi paesi ad esempio l'Islanda che va bene, tutti noi la vediamo come una piccola isola felice sono in pochi tanti problemi non li avranno ovviamente li hanno anche loro ma l'Islanda cosa ha fatto? ha annullato totalmente il gender pay gap in un modo molto furbo ha obbligato tutte le aziende presenti nel paese a fornire una documentazione sullo Stato sia delle retribuzioni di tutti gli impiegati che anche alle sostanziali differenze di genere per indagare, avere dei dati molto specifici e molto tecnici su ogni azienda su innanzitutto la paga e vedere proprio in maniera molto chiara se ci sono differenze tra uomini e donne ma anche sull'avanzamento nei ruoli di lavoro in Germania è stata adottata una legge molto simile che è un paese dove il divario salariale tra uomini e donne sfiora il 30% e infatti la legge tedesca ora obbliga le aziende sopra i 200 dipendenti a rendere noto a chiunque voglia saperlo all'interno dell'azienda quanto guadagnano i colleghi per la stessa prestazione lavorativa e dovranno obbligatoriamente fornire un resoconto dei rapporti sul trattamento salariale chiarendo quindi in maniera definitiva a tutti quelli presenti in azienda quanto siano allineati effettivamente questi stipendi in Inghilterra invece nel 2017 è stata firmata la regolamentazione del Dequality Act ovvero The Gender Pay Gap Information che similarmente alla Germania che obbliga le aziende oltre 250 dipendenti a pubblicare entro un anno dall'entrata in vigore dati relativi sia alla remunerazione dei propri dipendenti che anche ai loro bonus e quindi anche agli scatti di carriera con un'attenta analisi allo spaccato di genere negli Stati Uniti invece la situazione è un po' diversa innanzitutto bisogna partire molto indietro perché gli Stati Uniti sono stati uno dei primi paesi ad adottare delle riforme ad adottare una regolamentazione atta ad eliminare la disparità salariale di genere infatti c'è una legge firmata da addirittura Kennedy che si impegnava innanzitutto per migliorare l'impiego femminile ma soprattutto per annullarle il divario retributivo non è successo, lo sappiamo però comunque insomma è una conferma che fin dagli anni 60 si parla di gender pay gap e ora negli Stati Uniti ogni azienda può pubblicare i dati relativi alla remunerazione dei propri dipendenti su base volontaria quindi non è obbligatorio però molte aziende decidono di farlo soprattutto le aziende virtuose ovviamente perché ovviamente ci guadagnano in immagine e non è una cosa da sottovalutare chiaramente però il fatto che sia su base totalmente volontaria implica che molte aziende neanche cercheranno di impegnarsi per ridurre il divario salariale in Italia invece come siamo messi? non bene e questo in generale e l'abbiamo visto fino adesso però non tutti sanno che esiste una legge proprio riguardo a questo tema si tratta dell'articolo 46 del decreto legislativo dell'11 aprile 2006 numero 198 infatti questo articolo dice che le aziende pubbliche e private che occupano almeno 100 dipendenti sono obbligate a redigere ogni due anni un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione e in relazione allo stato di assunzioni formazione promozione professionale livelli dei passaggi di categoria o qualifica e di altri fenomeni legati alla cassa integrazione ed altri aspetti del lavoro e soprattutto alla retribuzione effettivamente corrisposta i termini nei quali era obbligatorio presentare questo rapporto sono scaduti perché infatti era il 30 aprile 2016 i dati ad oggi però non si sa se sono pervenuti e non sono ad ora disponibili né nessuno si è preoccupato di indagare ulteriormente se effettivamente negli anni successivi qualcuno si è occupato di fare questo rapporto per ogni azienda sopra i 100 dipendenti la mia opinione? non credo però insomma gli strumenti ci sono in alcuni casi e io non voglio neanche essere così sciocca da pensare che è chiaro che dal punto di vista del datore di lavoro ci siano delle problematiche sull'assunzione femminile soprattutto legate ovviamente alla maternità però trovo anche sciocco pensare che tantissime ruoli siano sempre comunque relegati alle donne che siano familiari quindi come quelli di cura di cura della casa di crescita dei bambini di accudimento delle persone anziane come dall'altro lato ci siano anche ruoli che sembrano proprio cuciti addosso alle donne che come proprio per i propri figli si occupano della formazione primaria che si occupano al massimo di ruoli sempre inferiori perché la dirigenza implicherebbe una maggiore occupazione capisco che le problematiche siano tante e in realtà nel nostro paese c'è un dato che è abbastanza ci può far sentire quasi sollevati perché è molto inferiore la differenza salariale perché il divario salariale medio è molto inferiore rispetto ad altri paesi ma per le donne è più difficile accedere al mondo del lavoro per le donne è quasi impossibile accedere a dei ruoli di responsabilità o dei ruoli dirigenziali e per questo vi dicevo prima che bisognerebbe sottolineare come anche la paternità dovrebbe essere un diritto anche per i lavoratori uomini chi può prendersi cura della famiglia oltre al ruolo classico che hanno tutte le donne perché non esiste solo la maternità dall'altro lato ovviamente per le donne è molto più difficile accedere se non quasi impossibile accedere a dei ruoli di responsabilità o di dirigenza e questo nel 2018 è ora che scompaia quindi quando penserete che il gender pay gap non esiste non pensate solo a quanto guadagna la vostra collega perché ad esempio nel mondo del freelancing una donna tendenzialmente deve tenere dei prezzi più bassi di un uomo di quasi un terzo e a volte anche della metà perché altrimenti perderebbe il lavoro per una donna freelancer essere pagata tanto quanto un corrispettivo collega uomo è più difficile quindi prima che ovviamente mi saltiate al collo e iniziate a dire che no non esiste il gender pay gap ricordo non guardate solo a ciò che succede alla vostra compagna di banco o di scrivania al lavoro ci sono tante altre situazioni che non state prendendo in considerazione tante difficoltà e tante realtà che forse non vengono assolutamente considerate e ripeto ancora una volta io mi rendo conto in una maniera anche molto cinica che per un datore del lavoro esistano delle problematiche legate al genere soprattutto legate anche all'indisponibilità di ore di lavoro e quindi di avanzamento di carriera ma tenete sempre conto che questi aspetti non ricadono sulla persona che biologicamente non può combattere il proprio sesso e la propria natura ma soprattutto dovrebbero essere questioni che lo Stato affronta occupa impedisce che allevia grazie a delle politiche che sostengono sia le donne nel mondo del lavoro ma anche ovviamente chi il lavoro lo dà ecco questa è una mia opinione ovviamente personale potete non essere d'accordo però quando vi diranno che il gender pay gap non esiste o prima di dire che il gender pay gap non esiste fate un po' di approfondimento ecco io spero di essere stata abbastanza chiara si tratta anche di questioni economiche che non sono proprio il mio pane quotidiano e io ho cercato di rendervelo il più terra terra possibile che è il modo in cui ho cercato di spiegarlo anche a me stessa approfondendo e leggendo tantissimi articoli che trovate tutti giù nell'info box in modo che così anche voi possiate accedere a tantissime fonti io mi baso su dei dati i dati sia dell'istat che dell'unione europea che il ministero delle pare opportunità perché penso che siano gli unici dati da tenere in considerazione le opinioni personali continuano a non esserlo perché quelli sono ovviamente solo magari come si vede una determinata questione dopo averla approfondita e niente io direi che per oggi è tutto spero davvero che questo video abbia spiegato un po' benino il gender pay gap di nuovo è un Feminist Friday che non si occupa di una questione legata a temi riguardanti libri e la lettura però insomma mi piace anche un po' il fatto che stiamo approfondendo diverse questioni e spero di farlo nella maniera più chiara possibile se poi mancherà qualcosa insomma cerchiamo di tornarci sopra io come sempre vi ricordo che il Feminist Friday continua anche su Instagram infatti se voi postate sul vostro feed una foto riguardanti temi femministi temi ai quali tenete tantissimo le vostre eroine le vostre autrici o quello che vi pare insomma io lo riposterò nelle stories se voi userete l'hashtag Feminist Friday niente io direi che per oggi è tutto spero che il video vi abbia tenuto compagnia e che vi sia piaciuto e direi che ci vediamo alla prossima ciao ciao